Nell'anteprima aveva annunciato un interessante, scoppiettante editoriale. Diamo la parola e cominciamo questa puntata di Campania Sport con Umberto Chiariello. Buonasera, anche se definire tale per i tifosi napoletani è veramente impossibile. Tre partite di campionato, due sconfitti e una vittoria all'ultimo minuto. Peggio di così non si poteva cominciare. Prendo a prestito come titolo della serata le parole di un decano dei giornalisti napoletani, Vittorio Raio. Stramaccioni contro strafalcioni. Questo per far capire subito come la pensiamo sul turnover scellerato che ancora una volta Benitez ha fatto, peggio del peggior Mazzarri. Aveva evitato giovedì contro lo Sparta Praga di stravolgere la squadra in una partita che doveva risvegliare gli azzurri dopo la sconfitta interna col Chievo all'esordio casalingo in campionato. Il Napoli era andato sotto, aveva subito il gioco della modesta squadra avversaria. Poi però con i suoi fuoriclasse, perché tale è Gonzalo Higuain e certamente un giocatore importante è Driss Mertens, il Napoli aveva ribaltato e vinto la partita per 3-1 prendendo quello che io poi su Twitter ho definito un piccolo brodino perché non poteva essere certamente una medicina che guarisse il malato. L'antibiotico vero era a Udine oggi perché se il Napoli fosse uscito dallo stadio Friuli dove non vince dall'esordio dell'era dell'Orentis in Serie A, l'anno dell'esplosione di Ezechiel Lavezzi, il Pocio, quando il Napoli persa la prima in casa all'esordio in Serie A da matricola nell'era dell'Orentis contro il Cagliari degli esordienti Amsic, Gargano, Gargano c'era già allora, e appunto Pocio Lavezzi andò in quel di Udine ed esplose in tutta la sua bellezza con 5 gol a 0. Da allora il Napoli o li ha prese o è uscito per il rotto della cuffia indenne dallo stadio Friuli. Era una gara sulla carta difficile per risvolti più psicologici che tecnici perché questa dinese è molto malmessa sia per chi ha venduto tutti i pezzi pregiati dell'argenteria di famiglia, ne è rimasto solo uno che però ancora non decide di essere un pezzo pregiato, lui è solo in potenza, Muriel, ma ha messo tanti operai sul pezzo lì a tenere la batteria difensiva e ha poi cercato quel sporadico contropiede che potesse permettere all'Udinese di vincere la gara. C'è una cosa che al Napoli però proprio non va giù, sono le palle inattive, il Napoli becca puntualmente gol, su palle inattive anche le più sciocche. Abbiamo comprato un gigante d'Ebbano, 1,95 per 89 kg, questo Caliduco Libali che è un bel combattente, va detto anche, che doveva risolvere il problema dei palloni alti che era un problema endemico del Napoli, dalle sue parti invece ogni qualvolta viaggia un pallone aereo accadono disastri. È successo a Genova con Piniglia, è successo oggi quando ha sporcato di testa la punizione dell'Udinese che ha consentito a Danilo di segnare. A proposito di Danilo, quello sì che era un difensore da prendere con pochi milioni, meno di quelli spesi per Colibali. E il Napoli si è trovato, grazie anche a questo turnover veramente scelerato, con un Mertens lasciato incredibilmente in panchina fino al gol del vantaggio udinese, un Mertens che forte della doppietta aveva il morale alle stelle e che quindi doveva giocare sicuramente è oggi al Friuli e non solo lui, il Napoli ha subito gol e non ha rimontato come non ha rimontato mai in questa stagione. Pensate, cinque partiti ufficiali, una sola vittoria al 95esimo, un pareggio che sapeva di sconfitta quello contro l'altretico Bilbao al San Paolo e ben tre sconfitte su cinque. C'è poco da aggiungere. E un lapsus sono sei dei partiti ufficiali del Napoli, tre di Coppa, tre di campionato. Però il concetto è chiaro. Quella con lo Spartapraga l'ho dimenticata, anche perché non è una partita memorabile. Vabbè, le vittorie sono due. Ma il concetto era chiarissimo. Quello che mi interessa aggiungere, però per chiudere il discorso, perché poi voglio dire quello che penso. Quello che voglio aggiungere è che Boban oggi ha chiesto a Benitez dopo partita, ha sottolineato più che chiesto, la mancanza di cattiveria di questo Napoli. E credo che abbia centrato come sempre, perché Boban è un osservatore acuto, come era un giocatore acuto in campo, il vero problema di questo Napoli. La mancanza di anima. Sembra essere tornati all'epoca di Donadoni. Mazzari aveva avuto un grande merito, quello di aver dato un'anima al Napoli. Poi aveva avuto il braccino corto, era figlio delle sue visioni patrugnose, era un uomo pieno di fantasmi, come lo è ancora oggi. Vedeva nemici dappertutto, però Mazzari lavorava. E dava un'anima a questa squadra, quest'anima che oggi non c'è, anche perché i veri guerrieri del Napoli sono stati mandati via. L'anima mazzariana è scomparsa, spazzata via. Oggi c'è un Napoli multinazione, di giocatori che in campo non sudano la maglia come dovrebbero, con un allenatore che pensa a farsi le vacanze, a dare giorni di riposo, che dà l'impressione di voler essere cacciato. E vi do una chicca perché è una fonte sicura. A giugno De Laurentiis aveva proposto a Benitez un rinnovo contrattuale di altri due anni, oltre questo. 4 milioni netti al primo anno, 5 milioni netti al secondo anno. Benitez aveva rifiutato, addirittura aveva dei dubbi se rimanere il secondo anno a Napoli. E De Laurentiis ha esercitato l'opzione contrattuale. Bene De Laurentiis, è l'ora che tu non scappi all'estero ma ti prenda le tue responsabilità. Perché questa sera io, come molti del popolo napoletano, ti chiediamo l'esonero di Benitez. Perché Benitez ha fallito già due obiettivi di stagione fondamentali. Lo scudetto che tu hai detto che era l'obiettivo del Napoli e l'accesso alla Champions League che è costata a te, proprietario del Napoli, 35 milioni e a noi il sogno di incontrare grandi squadre e di avere grandi calciatori nel Napoli. Ora c'è da salvare un accesso all'Europa che questo inizio di stagione fa pensare che quest'anno sia quasi impossibile perché le altre non stanno a guardare e il Napoli è già nei bassi fondi di classifica è un'Europa League dignitosa. E con un allenatore a scadenza che non ha voglia di rimanere a Napoli e che non ha nessuna voglia di combattere e non trasmette nulla alla squadra non si va da nessuna parte. E per quanto tanti finti amici che io e molti abbiamo continuano a fare i paladini di Benitez questa sera il re è nudo. Deve andare a casa Benitez. Questo vuole il popolo azzurro perché non se ne può più di vedere in campo una squadra che non ha un'anima. Ho finito, grazie. Penso che adesso ci sia tempo soltanto per la pubblicità pronti a scaldare i motori anche i nostri protagonisti di questa sera. Intanto udite udite molto nervosismo generato anche dalle scelte in campo di questa sera di Benitez, Kayecon e Amsic in particolar modo che avrebbero detto al tecnico di sentirsi di poter tornare in campo anche questa sera. Dunque nervosi per l'esclusione, torniamo a parlarne tra pochissimo subito dopo la pausa pubblicitaria.